In campo e dietro le scrivanie, ad Avellino non ci si annoia mai. Se all'interno della squadra si sta cercando la soluzione per uscire da un periodo davvero nero, in società si continua a navigare a vista tra un problema e l'altro. Innanzitutto c'è una trattativa di cessione che esiste e va avanti, come ha fatto sapere dalla Cina Michele Gubitosa. Il patron di HES ieri sera è intervenuto a linea Verde Sport, mandando un messaggio in cui ha chiarito la sua posizione. In questi giorni, ha scritto Gubitosa via WhatsApp, sono fuori per lavoro e ho avuto modo di leggere attestazioni di grande stima da parte dei tifosi. Di questo affetto mi sento onorato. Con Walter Taccone ho un'intesa di massima che entro il 5 dicembre devo sciogliere le riserve su una mia entrata in società per la totalità delle quote, su cui stiamo discutendo, in quanto Taccone desidera restare con una quota simbolica. I problemi ci sono, è inutile negarlo, ma non sarà di certo l'euro in più o l'euro in meno che mi spaventerà. Ci sono altre problematiche che vanno chiarite. Se riusciremo a superare l'ostacolo non mi tirerò indietro. Purtroppo devo anche fare i conti con investimenti che non devo rischiare di far andare completamente a vuoto. Dispiace dirlo, ma in certe questioni solo la passione non basta. La passione basterà comunque per fargli formulare un'offerta ufficiale al suo rientro in Italia, anche perché nel frattempo le indiscrezioni su quello che potrebbe essere il suo progetto tecnico futuro avrebbe incontrato per Paolo Marino prima di partire per la Cina, si susseguono facendo volare la fantasia dei tifosi. Chi invece ieri sera ha messo da parte la diplomazia per scuotere squadre tecnico è stato Massimiliano Taccone. L'ormai ex direttore generale, intervenendo sempre a linea Verde Sport, ha chiarito le ragioni delle sue dimissioni spiazzando un po' tutti. Nella vita bisogna guardare in faccia la realtà. Noi siamo partiti in questo campionato con tante ambizioni, con tanta voglia di fare. Purtroppo gli ultimi risultati certamente non ci stanno sorridendo, perché a otto partite abbiamo fatto una vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte, quindi fare sei punti in otto gare non è certamente una media per una squadra che ha delle ambizioni. e quando naturalmente il primo responsabile sono io in qualità di direttore generale e quando non si riesce a capire la motivazione di questa involuzione così grande, tra virgolette, e quindi le azioni da intraprendere in queste situazioni, c'è necessità di fare un passo indietro, di analizzarsi, di farsi un bagno di un'istà e quindi va a fare tranquillamente un passo indietro. Deluso dai risultati, insomma, Massimiliano Taccone ha deciso di farsi da parte, lasciando adesso Enzo De Vito e Walter Novellino in una tempesta dalla quale dovranno uscire a braccetto, perché è bene ribadirlo a chiare lettere, visto che qualcuno prova spesso a inquinare l'ambiente con false notizie. Nessuno dei due ha intenzione di dimettersi, semplicemente perché entrambi credono di poter riportare la nave bianco-verde in acque più tranquille.